salve cari amiche e cari amici adesso mi sto riuscendo a filmare con il mio vecchio tablet del 2013 con la camera dietro perché ho scoperto dopo anni che si vedeva opacato come se filmassi sott'acqua nella nebbia che bastava mettergli un pezzettino di scotch adesivo trasparente per risolvere il problema della messa a fuoco della camera una cosa così banale che veramente mi lascia sbigottito come mai si vede che il film protettivo della camera gli è venuto meno comunque faccio questo video a distanza di più di sette giorni dell'ultimo perché non trovavo argomenti da registrare spero che tutte e tutti voi tutte e tutti voi stiate bene un saluto a tutti quelli che commentano i miei video sta andando bene il canale ma ancora non ho né le monetizzazioni né nessun video che superi le 100.000 views vi voglio ricordare che il 26 gennaio adesso domenica sarà il mio compleanno quindi io non chiedo nulla in patreon anche perché ho provato aprire una conto patreon e nessuno ha fatto nulla io non so utilizzare patreon non c'è la paypal perché sono disoccupato e non ho una conto bancario non ho nessun mezzo di pagamento e quindi se volete farmi un regalo di compleanno non voglio approfittarmi di voi ma guardiate il maggior numero possibile dei miei video e il 26 gennaio qualsiasi altro giorno anteriore o posteriore voi potrete aprire una lista di riproduzione dei miei video a scelta in secondo piano in modo che se state 5 6 ore nel computer in secondo piano oppure nel cellulare o nel tablet con il brown swear entrate nel mio canale santenchan e in secondo piano riproducete per quanto tempo possiate farlo il contenuto di un'intera lista di riproduzione ne ho più di 6 di argomenti differenti in questo modo mi regalerete ore di visualizzazione oltre che visualizzazioni del video se poi potreste anche commentare i miei video e dargli like io farò così con i vostri video quindi niente questo è stato un video di prova per vedere come riesce a registrare questo tablet a mettere a fuoco con la sua camera da 2 megapixel da 720 per 1200 non 1440 per 720 perché mi voglio registrare con questa camera e nel passato ho registrato con questa camera dei video anche se venivano sfocati perché questa camera ha un microfono che dovrebbe essere migliore non mi fa la voce da papera come la camera frontale del tablet siccome io non voglio che mi va di fuori uso il vecchio cellulare che ormai è vecchio anche se conservo in ottime condizioni del 2014 il motorola moto it seconda generazione del 2014 tratto di utilizzare per filmarmi questo vecchio tablet anche se verranno video di un formato pessimo allora niente questo verrà un video per salutarvi forse farò di domenica un video forse no e soprattutto un video per vedere in quali condizioni riesca a filmarmi sto utilizzando uno specchio uno specchietto davanti a me in questo modo io so se mi sto inquadrando o no forse ecco così va meglio allora vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi this sunday this 26 of january sunday is my birthday please si ormai video for my birthday thank you you my youtube channel satel chan to grow up allora niente faccio questo video di prova lo taglio subito perché così gli do una buona edizione ringraziandovi a tutte e tutti voi di seguirmi alla prossima al prossimo video che farò sempre in questa modalità in questo nuovo formato nuovo vecchio formato il tablet e di dicembre 2013 il cellulare del 2014 mia madre me l'ha regalato per dicembre 2015 su tutte cose vecchie aiutatemi a crescere aiutatemi pensate che per natale non ci siamo potuti regalare nulla e adesso il 26 gennaio mia madre neanche mi potrà regalare nulla allora conto su tutte e tutti voi guardate i miei video per il 26 gennaio dicevo 26 dicembre no il 25 dicembre non ci siamo potuti regalare nulla il 26 gennaio non mi regalerà nulla mia madre poi lei e del 6 marzo non gli potrò regalare nulla a meno che voi per il mio compleanno almeno vi ricordiate di guardare i miei video e di condividerli oppure aprite una delle tante liste di riproduzione e dategli play nel tempo quando navicate in internet nel computer o nel cellulare con il browser e in questo modo avrò dei minuti o delle ore di riproduzione addizionali che poi attireranno più pubblico grazie di nuovo non voglio essere ridondanti ma grazie ciao